ciao a tutti ragazzi sono coridan ancora una volta ben ritrovati nel mio canale oggi vi voglio presentare una nuova collaborazione che da qualche giorno iniziato sul canale e con cui sono entrato in contatto ve l'ho detto nell'ultimo periodo vi voglio parlare di mister che shop il cui indirizzo trovate sempre ve lo metto direttamente il primo link in descrizione che è un sito di vendita sistemi operativi windows e pacchetti office con doppia sede sia in italia che all'estero nel regno unito trovate comunque tutte quante le informazioni principali cliccando direttamente sul chi siamo sul loro sito ufficiale che state vedendo ora appunto nel corso del video mister che shop offre i migliori prezzi sul mercato ovviamente parliamo soltanto di digitale e non di copie fisiche sia del pacchetto microsoft office che vedete c'è la versione 2019 2016 2013 e 2010 e poi i sistemi operativi windows 10 windows 7 e windows 8 ovviamente sistemi operativi in tutte e due le loro forme a 32 e 64 bit ora poi tanto nel corso del video vi faccio vedere direttamente un acquisto perché vi voglio ricordare da subito ma ve lo faccio vedere anche fra un attimo che mister che shop mi hanno dato un codice discount personalizzato che trovate sempre sotto al link appunto del sito primo link in descrizione che è coridan 10 scritto tutto maiuscolo e da usare come codice discount al momento dell'acquisto per avere uno sconto del 10 per cento già i prezzi sono bassi poco uno sconto del genere capite bene le recensioni comunque del servizio molto serio su trust pilot che vedete qua giù sono comunque 5 stelle sono altissime e il servizio è veloce e impeccabile perché al momento che voi andate a comprare qualcosa nel giro di pochissimo tempo ma si parla veramente di minuti il prodotto che avete comprato ricorda appunto pacchetto office o sistema operativo vi arriva direttamente via mail quindi vi arriva direttamente la chiave di attivazione e il prodotto in formato digitale ricordo che windows è la versione come potete vedere in tutte e tre le forme 10 7 8 in versione professional quindi assolutamente la meglio che c'è sul mercato in circolazione apro una piccola parentesi perché non vi voglio nemmeno stare a dire perché non si debbano scaricare le cose pirata e craccate però soprattutto il sistema operativo è bene averlo originale no è bene va bisogna averlo per forza originale perché vuoi mettere per aggiornamenti di sistema che almeno sei sicuro che te li installi automaticamente il windows updater oppure anche semplicemente per raggiungere le migliori prestazioni con i videogiochi e non avere magari la paura che qualcosa possa andare a male si possa rompere poi perdere dati il sistema operativo ragazzi è il cuore pulsante veramente del computer e ci vuole assolutamente originale e poi con dei prezzi del genere ditemi voi veramente se qualcuno lo potrebbe mai scaricare oltretutto offrono un velocissimo servizio contattaci come vedete qui c'è la mia mail direttamente l'argomento che bisogna scegliere appunto per il servizio clienti e poi il messaggio da mandare nel caso ci potessero essere problematiche non ce ne saranno di sicuro comunque qua giù vedete avete tutti quanti i loro dati per contattarli ricordo che è una ditta sia italiana che appunto inglese nel regno unito i loro servizi sono immediati come vedete acquista pagate direttamente con carte paypal 100% garantite qua giù c'è tutto scritto pagate vi arriva la mail scaricate direttamente e installate quindi ci avete il sistema operativo che magari ve lo mettete anche su una chiavetta a singolo uso ovviamente e quando dovrete andare a formatare ce l'avete già bello pronto sulla chiavetta usb lo inserite e andate ad installare tutto quanto il sistema operativo stessa cosa identica appunto per il pacchetto office che poi vedete anche qui nei vari tagli e nei vari costi vi faccio vedere un po' come funziona e non vi dimenticate in basso a destra il chatta con noi per chattare direttamente per chiedere aiuto al supporto proprio in tempo reale è un altro servizio in più andiamo su sistemi operativi ora vi faccio vedere io prendo ovviamente prendo acquisto windows 10 e vedete che qua giù in fondo c'è la versione home con la licenza ovviamente microsoft ovviamente al 100% garantita la licenza professional 32 64 bit o anche direttamente l'upgrade alla versione professional tanto i prezzi sono tagliati sempre lo stesso da 99 139 e vabbè 140 guardate quanto viene tagliato voi andate a cliccare direttamente e poi andate a fare aggiungi al carrello cliccate vai alla cassa a meno che non dobbiate fare ovviamente altri altri acquisti nel frattempo e qua giù nel codice promo andate a scrivere tutto maiuscolo coridan 10 e fate aggiungi come vedete c'è stato uno sconto del meno 10% che è uno sconto di 3 euro e vedete che voi andate a pagare il pacchetto non più 29 99 quindi utilizzatelo sia per office che soprattutto come vi dicevo per windows per il pacchetto windows e poi fate vai alla cassa a questo punto qui che avete fatto direttamente procedete con l'acquisto vi vengono chiesti tutti quanti i dati voi inserite tutti quanti i dati indirizzo di casa codice fiscale codice di avviamento postale tutte le cose e al momento che date continua vi arriva direttamente la possibilità appunto di scaricarlo vi viene mandata la copia digitale con attivazione e tutto quanto quindi voi l'andate a scaricare e lo andate ad installare lo potete mettere tranquillamente su una chiavetta usb che è anche secondo me il miglior modo per installarlo direttamente quando magari dovete fare un format o perché no anche un aggiornamento al sistema quindi direttamente sulla chiavetta inserite e andate ad installare il sistema quindi comunque è un servizio serio lo vedete direttamente anche dalle votazioni è un servizio immediato e andate a pagare un sistema operativo ditemi voi dove lo trovate da pagare sì in forma digitale ma a una cifra del genere e avrete windows praticamente per sempre in versione professional originale sul computer o il pacchetto office alla spesa più bassa possibile immaginabile e siete pronti anche nel caso di aggiornamenti futuri e tutto è sempre bene il sistema operativo averlo originale perché ve l'ho detto è quello che dà vita al computer per me non può esistere assolutamente sulla faccia della terra qualcuno che installa un sistema operativo craccato passatemi il termine io non mi fiderei assolutamente mai il sistema operativo deve essere appunto originale e installato anche appropriatamente per poi fare degli aggiornamenti futuri automatici che vi fa direttamente l'updater di windows della microsoft quindi ragazzi meglio di così andate direttamente da mrk shop a fare i vostri acquisti trovate il link in descrizione sempre primo link e vi ricordo che è un servizio immediato veloce e poi se avete qualche problema andate direttamente sul chat con noi o contattaci prendono tutti i tipi di pagamento e tutti i tipi di carte anche direttamente paypal io l'acquisto l'ho fatto con paypal ragazzi mi raccomando cosa importantissima usate il codice sconto coridan 10 perché comunque è un buono sconto del 10% dedicato appunto all'utenza del mio canale io ringrazio mrk shop per questa collaborazione e ragazzi mi raccomando comprate i sistemi operativi originali e soprattutto da loro ciao alla prossima grazie a tutti